Le parole sono importanti perché, come dice il detto, ne uccide più la parola che la spada. Per cui usare e conoscere le parole giuste è importante. Personalità di spicco nei campi dell'impegno civile, della filosofia e della letteratura ci stimolano a riflettere su alcune parole chiave che, in ambito giudiziario, hanno un significato, ma che in altri settori assumono senso e peso diversi. Per discutere del valore del linguaggio da prospettive eccentriche, alvia la quinta edizione di Con le parole giuste alla Memoteca Montanari di Fano. È un appuntamento col quale proviamo a declinare il tema della giustizia nella letteratura, nella filosofia, nella società. Quest'anno lo facciamo con dieci appuntamenti, con dieci parole chiave attraverso le quali proviamo a declinare il concetto di giustizia e di legalità e lo faremo con un percorso che dal mese di dicembre ci accompagnerà fino a maggio, fino alla giornata nazionale per il ricordo delle vittime e delle mafie. Nel prossimo appuntamento quale sarà la parola chiave? Quest'anno abbiamo incentrato anche questo tema, felicità, per una serie di coincidenze fortunate che ci consentono di approfondire il tema, sia perché è uscito recentemente il film Il Gione Favoloso dedicato a Leopardi e riprendendo questo tema e coinvolgendo anche Mario Martone, un editore locale, De Nardo, ha realizzato una bellissima pubblicazione, Giacomo, il signor bambino, con illustrazioni di Gianni De Conno, scritto da Paolo Di Paolo, tra l'altro libro che è stato anche finalista al premio Striga Ragazzi e Ragazze per il 2016. Per cui è un bel tema, rivolto soprattutto alle scuole elementari per approfondire una parola molto importante, molto significativa, con un tono leggero, ma comunque molto interessante.